Credi Crea, episodio numero 44 Ciao e benvenuti a questo episodio di Credi Crea. Mi chiamo Michela Mitrani e questo è il podcast che vi aiuta a produrre, pubblicare e pubblicizzare in modo indipendente le vostre opere. In questo podcast svelo quali strumenti usare per dare vita al vostro libro e quali risorse rendono più semplice questo processo. Oggi ospito qui a Credi Crea Simone Bennati. Simone è stato un grafico, web designer ed è il fondatore e curatore del blog bennaker.com dove scrive principalmente di social media marketing, web promoting, SEO ed online utilities. Simone benvenuto a Credi Crea e grazie per averci dedicato un po' del tuo tempo. Grazie a te Michele, sono veramente onoratissimo di essere qui questa sera. Carissimo, ho scoperto una cosa interessantissima mentre stavo ascoltando una tua intervista con Leonardo Vannucci su YouTube. Ora, in quell'occasione stavi spiegando di come è nato il tuo blog bennaker.com quando, insomma, una persona qualche anno fa ti disse, cito, tu hai 30 anni, Simone, sono 10 anni che fai il grafico, nella vita non riuscirai a fare nient'altro. Ora, questa affermazione tutt'ela sei legata al dito e su di essa hai cominciato a costruire qualcosa, un modo di fare, di studiare e di sperimentare che alla fine poi si è evoluto nel tuo blog ma non solo. Ora, la domanda è come descriveresti questa tua esperienza? Un caso in cui una delusione personale è diventato il motore di un cambiamento? E ti faccio questa domanda, Simone, perché molto spesso idee, ma anche prodotti, nascono da episodi non sempre piacevoli, però che alla fine io credo sia la nostra reazione a questi episodi che influenza il modo in cui creiamo? Beh sì, la frase che hai citato sicuramente ha scatenato in me un moto rivoluzionario, voglio definirlo così, nel senso che sono sempre stato infastidito, tra virgolette ovviamente, da tutti quelli che mi dicevano tu questo non potrai mai farlo, oppure tu questo non lo puoi fare, cioè i divieti hanno sempre suscitato in me quella irrefrenabile voglia di fare esattamente il contrario di ciò che mi veniva detto di non fare. Adesso, nel caso specifico ovviamente sto enfatizzando il lavoro dietro alla nascita di Ben Hager.com, è stato ben più corposo, però questa frase in particolare mi ha dato il là, ha fatto sì che mi decidessi a partire. Sostanzialmente l'idea esisteva anche da prima e magari sorriderai nel sapere che in realtà il blog da principio è nato perché ero stanco di rispondere alle stesse domande milioni di volte e quindi ho detto quasi quasi apri un blog, così io quello che so lo scrivo e se qualcuno mi fa per l'ennesima volta la stessa domanda gli giro il link e non è una fattuta, è vero, è esattamente nato così. Quindi il blog è proprio nato da un'esigenza alla fin fine. Assolutamente sì perché io non riuscivo più a gestire, non riuscivo più a sopportare il fatto che dovessi spiegare centinaia di volte le stesse cose e quindi ho detto lo sai che c'è? A questo punto io apro un blog così a chi mi fa la stessa domanda giro il link e poi se vuole si studia la questione da solo. Perché poi tra le altre cose apro una piccola parentesi ma non è che il primo blog è fatto, se non ricordo male in altre interviste che ho sentito, tu avevi già scritto, a te piace scrivere parecchio e avevi aperto anche altri piccoli blog insomma già anni prima di Bennache. Sì esattamente, io in realtà scrivo, se la memoria non mi inganna, scrivo online dal 2003-2004 quando apri il mio primo blog che era interno ad una piattaforma chiamata Giovani.it che tuttora esiste anche se non credo abbia più i blog e lì ho scritto pertanto nel senso che gli ultimi post risalgono al 2012. Oh wow! E quindi per otto anni io ho scritto i cavoli miei perché quel blog non era un blog tecnico ma era veramente un diario personale su questa piattaforma e tantissime persone le ho conosciute proprio in quel periodo lì. Ho capito, questo è interessante quindi praticamente è stata una palestra per te perché alla fine ti esercitavi su base regolare scrivendo post. Esattamente, era però impostato in maniera totalmente diversa come dicevo, lì mi permettevo di condividere qualsiasi tipo di pensiero. Essendo poi nato nel 2004 questo amore per il blogging, all'epoca i social network non c'erano, quindi lo utilizzavo molto come posso utilizzare adesso i post su Facebook, quindi capitava che su quel blog io condividessi riflessioni, contenuti eccetera anche due o tre volte al giorno, il che per un blog moderno è impensabile. Invece facciamo un flash forward nel presente, di che cosa tratta invece più specificatamente BenNager.com? BenNager.com tratta come giustamente hai detto nell'introduzione di social media marketing, di copywriting, personal branding e materie affini. Io sintetizzo tutto in materie affini perché sarebbe veramente difficile elencarle tutte. Per farti un esempio, quando mi va, perché comunque non ho un mio piano editoriale, io vado a istinto, cioè se mi va di scrivere di un argomento, sempre inerente insomma alla tematica del web, prendo e lo faccio, però trovi anche post tipo sui videogames, ogni tanto scrivo post sui videogames, oppure parlo di tool online che sono utili sia nell'ambito del social media marketing o nell'ambito della grafica ad esempio. Quindi insomma sono abbastanza libero perché non avendo nessuno sopra di me ed essendo signore e padrone, se così vogliamo, di BenNager.com posso fare quello che mi pare. E la regola è a qualcuno può non piacere e io lo so, se a qualcuno questo modo di fare non piace, ci sono tanti altri blog validissimi, tecnici, magari focalizzati sul singolo argomento e quindi non è assolutamente obbligatorio seguire quello che è il mio flusso di coscienza, diciamo così. Però io sottolineo ai nostri ascoltatori perché ho letto il tuo contenuto, che il tuo contenuto è il motivo per cui sei qui in questo show adesso, è proprio perché è particolare il tuo stile, mi è piaciuto molto, tu sei croccante fuori, morbido dentro, ci sono cose che ti rimangono, specialmente nella tua biografia, molto corta, succinta, ma al tempo stesso che rispecchia la tua personalità e questo è stato uno dei motivi per cui, diciamo così, sono stato spinto ad intervistanti e sono molto felice di aver fatto quella decisione. Carissimo, senti però, adesso andiamo un po' più nel particolare, volevo chiederti, sempre nella stessa intervista che citavo prima, facevi presente come per poter comunicare in maniera ottimale, questo in qualsiasi tipo di social media, bisogna essere preparati, avere metodo e avere anche un'ottima predisposizione alla comunicazione. Simone, quali credi che siano i più grandi errori che al giorno d'oggi fanno aziende slash brand quando cercano di sponsorizzare un prodotto o un'idea usando i social? Beh, oddio, io non voglio sembrare Ivan il terribile, ma né fare la figura di quello che sa tutto lui, però gli errori solidamente sono veramente tanti. Uno in particolare, credo li generi tutti quanti ed è lo stesso errore che io ho notato in anni in cui mi sono occupato di web design. Vado a spiegarlo, molto spesso quando ci curiamo della comunicazione, ci curiamo di realizzare progetti dal sito web al semplice post sui social network, ci dimentichiamo di una cosa, ci dimentichiamo di quando vestiamo i panni dell'utente. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che nel momento in cui vogliamo sviluppare un progetto di comunicazione, di immagine, non per forza legato alla parola, dobbiamo ricordarci quello che vorremmo vedere noi quando vestiamo i panni dell'utente, ovvero quando siamo davanti al pc in modalità passiva. Se io disegno un sito web, per farti un esempio, e quel sito web metto i bottoni tutti a sinistra perché a me esteticamente piacciono a sinistra, dovrei forse ricordarmi che per abitudine l'elenco delle sezioni in cui si suddivide il sito tipicamente è posizionato in alto perché la prima cosa che guarda l'utente è l'inizio del monitor, quindi per cui là l'utente si può fare una panoramica. Quindi è importante per tutti ricordarsi quello che piace a noi nel momento in cui siamo dal lato dell'utente, dimenticandoci per un momento di qual è il nostro ruolo, sia esso quello del social media manager, sia del grafico, sia del web designer, tornare ad essere utenti per dare agli utenti quello che effettivamente vogliono, perché dal punto di vista di quello che sta dall'altra parte del monitor, di quello che subisce passivamente ciò che gli arriva, siamo tutti molto simili, non c'è veramente tanta differenza. Una grafica fatta bene, colorata, accattivante, che ha i giusti equilibri piace a tutti e è difficile che a qualcuno piaccia un obrobrio, per cui lo stesso principio andrebbe applicato ai social media. Nel momento in cui decidiamo di scrivere un testo per raccontare una storia, per promuovere un prodotto, credo che sia nell'interesse di tutti quanti, utenti e non farsi ad esempio che il testo sia scorrevole, sia leggibile, abbia le giuste pause, sia cadenzato nel modo giusto. Un testo di difficile lettura non piace a nessuno, non piace all'utente che lo legge, ma non dovrebbe neanche piacere a chi quel testo lo produce. Certo, quindi mettersi un po' nelle scarpe anche dell'utente in quel caso, cercare di capire come vede, ma alla fin fine anche farsi domande come io che cosa farei, io che cosa domanderei, io come presenterei questo prodotto o idea. Assolutamente, questo è fondamentale, perché io capisco l'analisi del target, diciamo da un punto di vista tecnico, dotandosi anche di strumenti molto sofisticati, ma ogni tanto dovremmo ricordarci che noi per la maggior parte del tempo siamo il target e dovremmo ricordarci cosa ci piace e cosa non ci piace quando siamo nel target. Questo ci aiuterebbe molto a produrre cose fatte bene online, ripeto, da qualsiasi punto di vista, dal sito web all'attività di comunicazione sui social network. Ottimo, a me una cosa che piace molto è, visto che tu hai diverse esperienze in diversi campi, riesci a fare questi collegamenti, cioè non sezioni, ok questo è web graphic o questo è SEO, quest'altra è una cosa diversa, in realtà c'è un collegamento tra queste cose a diversi livelli, se una persona riesce a individuarli, riesce a capire dove c'è questo ponte e allora ha, diciamo così, più leverage, più potere, diciamo così, decisionale, ma anche può far capire un concetto meglio ad altre persone, o può in questo caso diffondere un'idea o vendere un prodotto, sta tutto, insomma, nel vedere con gli occhi del acquirente. Assolutamente sì, questo è fondamentale. Senti, carissimo, io stavo inoltre leggendo il tuo blog, che voglio sottolineare ancora una volta, è scritto in un modo molto particolare, benaga.com, e suggerisco ai nostri ascoltatori di andare a browsarlo, andare a cercarlo, se sono interessati ai temi di cui stiamo discutendo, stavo leggendo il tuo post intitolato, se l'obiettivo è like, allora il cliente è l'ego, in cui analizzi il ruolo, l'importanza di questo indicatore per le aziende, fai anche presente in questo articolo la differenza tra il contenuto e il contenitore, e su che cosa le aziende dovrebbero concentrarsi. Ora, in particolare tu scrivi e ti cito, la vera sfida di un'attività di social media marketing, seria, sta nel riuscire a far sì che, grazie ad un ottimo contenuto, l'attenzione dell'utente si sposti poi sul contenitore, ovvero sul brand o l'azienda che quel contenuto lo ha condiviso. Se questo non accade, ogni azione diventa inutile, fino a se stessa, un mero esercizio di stile. Simone, per quale motivo credi che ci sia questa discrepanza tra i due indicatori? Beh, perché come in quello stesso post facevo esempio, si tende molto spesso a privilegiare contenuti, io li chiamo nazionalpopolari, nel senso che piacciono a tutti, dai bambini agli adulti, agli anziani, come possono essere i famigerati, i gattini, che è un esempio che facevano sempre nel nostro articolo. Esatto, i gattini o i video demenziali. Ora adesso, io capisco che per poter giustificare il proprio lavoro di comunicazione ci sia bisogno di tirare su engagement, di fare interazione, eccetera, ma se tu mi proponi un contenuto che non c'entra assolutamente nulla con quella che è la tematica, ovvero che è il contenitore, che è il brand che tu stai promuovendo, è ovvio che l'attività che stai portando avanti è meramente finalizzata a macinare like, non ad altro. Quindi le persone apprezzeranno moltissimo quel contenuto, perché è appunto nazionalpopolare, ma non dedicheranno neanche un attimo ad approfondire chi l'ha condiviso, perché l'ha condiviso, qual è il messaggio di sottofondo, semplicemente perché un messaggio non c'è in questi casi, quindi per cui tutta l'attività risulterà inutile alla fine. E tu dici anche non solo scusami inutile, ma potrebbe anche danneggiare nel lungo periodo quella brand azienda. Guarda, io ho delle esperienze, e parlo da utente, in cui mi sono interessato a delle pagine Facebook inizialmente, perché trattavano di tematiche a me affini, ad esempio la tecnologia. Se io vado su una pagina Facebook che si occupa di tecnologia, cosa mi aspetto di trovare? Contenuti che riguardano l'argomento tecnologia. Invece, come mi è successo più volte, vado sulla pagina di tecnologia e trovo la gif di un gattino che si rotola sul prato, oppure trovo il video di uno che cade con lo skateboard. E' una storia vera? No, no, è una storia verissima. E non parlo di fanpage, di pagine Facebook, perdonami, che hanno 3.000, 5.000 fan. Parlo di pagine Facebook che hanno 200.000 fan italiane. Allora lì capisci che c'è un divario, un'incapacità, io lo chiamo così, di riuscire a elaborare contenuti interessanti su quella che è la propria tematica. Quando questo non si riesce a farlo, è ovvio che uno spazi verso quelli che sono contenuti nazionalpopolari, leggeri, easy, definiamoli come vogliamo. Ma questo non serve alla tua attività. Questo, se sei un social media manager, al massimo serve a giustificare il tuo stipendio di fronte a chi sta sopra. Nel senso che, guardi, l'ultimo mese abbiamo fatto 1.200 like, perché chi sta sopra non sa a distinguere la qualità di like, diciamo così, o di interazioni che arrivano su contenuti ficcanti, incentrati sul tema e su altri tipi di contenuti. Si accontenta del numero e ciao, e tu il numero glielo dai, così glielo dai, ma non stai facendo bene alla tua azienda, non stai facendo bene a quel brand. Certo, quindi questa è la differenza poi dal contenuto e dal contenitore, che è importante. A me ricorda anche una specie di strategia a corto periodo, cortissimo periodo, medio o lungo periodo. Devi saper scegliere tra queste due cose, devi saper bilanciare, ma soprattutto devi sapere qual è la sua strategia e che cosa stai facendo. L'esempio che mi hai fatto tu di queste pagine enormi che diffondo questo tipo di contenuto frivolo, mi è sembrato davvero esplicativo e che, diciamo così, dà anche prova che quello che hai scritto in questo tuo articolo, se l'obiettivo è like, allora il cliente leggo, che è vero. Sì, assolutamente sì, poi tendo sempre anche a trovare delle giustificazioni, per carità, nel senso che molto spesso può capitare che questa attività sia portata avanti perché tanto, tra virgolette, dall'alto l'unica cosa che interessano sono i like e se dall'alto l'unica cosa che interessano sono i like, vuol dire che in alto c'è qualcuno che in qualche modo ha bisogno di un certo tipo di appagamento, insomma, se vogliamo guardare alla cima della piramide, evidentemente qualcuno, come posso dire, ha bisogno di sentire che la gente apprezza il suo prodotto, il suo brand, eccetera, quando in realtà non è assolutamente così, la gente sta apprezzando tutt'altra cosa, contenuti piatti, contenuti per tutte le ore e per tutti i giorni, diciamo, niente che riguardi strettamente la sua azienda, ma se questo gli basta, allora a bontà sua, contenti tutti, arrivederci. Certo, certo, senti Simone, voglio un po' chiudere con una domanda arrivata da destra, un po' inaspettata e ti sarà un pochino familiare questa domanda, ma voglio davvero la tua reazione emotiva adesso. Vieni contattato domani via e-mail da una brand, azienda, che ti dice, guarda Simone, vorremmo pagarti 200 euro all'anno per curare la nostra pagina Facebook e rilasciare due post al mese. Quale sarebbe la tua risposta? Non posso dirla perché sarebbe estremamente volgare. E io ti ho fatto questa domanda, diciamo così, a casa, è perché, diciamo così, ho studiato la tua personalità, slash, domande che ti hanno fatto altri, voglio sapere la risposta che tu daresti a queste persone. Guarda, io, ok, ammetto di essere un tipo, diciamo così, scarso complimenti, come direbbe mia nonna in diadalto Umbro. Una persona un po' rude, sbrigativa, mi piace andare al succo delle cose, però, però, anche di fronte a richieste incredibili, che non stanno né in cielo né in terra, tendo sempre a dare risposte compite, educate e anche volendo argomentare, voglio sempre argomentare il perché dei miei no, se posso e se mi rendo conto che davanti c'è una persona che non è che è cattiva, è che non si è proprio resa conto come funzionano le cose, ok? Quindi c'è un lato educational anche nelle mie risposte, se vogliamo. Adesso ti spiego come funzionano le cose, perché la domanda che mi hai fatto è assurda. Esatto, quindi come sarebbe, diciamo così, la tua risposta a questo, diciamo, ipotetico che poi è accaduto, sappiamo che è una storia vera questa qua. Sì, sarebbe lunga e argomentata. Se vuoi la versione breve, breve, piadeva l'underculo, ok, questa è la versione breve, ripeto, è l'ultima ipotesi, cioè veramente in ultima battuta sarebbe quella. Per far capire comunque questa qui, anche per persone che sono, tra virgolette, ignoranti, che non sanno nel bene e nel male questa cosa, che c'è un tipo di lavoro un pochino diverso che quei 200 euro all'anno per due post di contenuto sulla pagina Facebook. Però mi ha interessato, volevo la tua reazione su questa cosa qui, perché non l'ho esplorata a fondo. Simone, volevo anche, diciamo così, stuzzicarti un pochino, far risaltare la tua personalità ai nostri ascoltatori, prima, insomma, di chiudere questa intervista con la domanda che faccio di solito, che sarebbe, se hai progetti in cantiere che vuoi diffondere alle masse? Beh, attualmente il mio progetto principale è quello di piazzare me stesso, se così si può dire, su un percorso professionale autonomo, perché dopo tanti anni in cui sono stato praticamente sempre dipendente, adesso è arrivato il momento che io vada avanti un po' con le mie gambine, diciamo così. E quindi sto cercando appunto di costruire questo nuovo percorso, di entrare in questa nuova fase della mia vita professionale e diciamo che le cose più interessanti stanno arrivando proprio in questo momento, quindi sono in piena fase di start-up, ci sono tante idee e vediamo quali riuscirò effettivamente a concretizzare. Ottimo, carissimo. Oltre a bennagl.com dove possono trovarti i nostri ascoltatori? Beh, io ho il brutto vizio di iscrivermi a qualsiasi social network esca, tranne quelli in cui si canta, perché non so cantare e so che ce n'è uno, ma purtroppo mi sfugge il nome. E comunque principalmente su Facebook basta scrivere Ben Hacker e esce sia la pagina Facebook sia il mio profilo personale. Dopodiché su Twitter io uso lo stesso nickname su tutti i social in modo da essere riconoscibile, su Twitter e sicuramente su LinkedIn che è un social che sto approfondendo molto negli ultimi due anni, sul quale sto facendo un grosso lavoro e mi sta dando un sacco di soddisfazione. Ottimo, una cosa che dovrò fare adesso chiusa l'intervista è aggiungerti su LinkedIn perché non voglio perderti di vista e voglio dirti Simone ancora una volta grazie per le tue risposte e voglio augurarti come faccio a tutti un titanico in bocca al lupo a te e ai tuoi progetti futuri. Grazie a te per avermi ospitato e crepi il lupo. Spero che questo episodio di Credi Crea vi sia stato utile. Se lo è stato aiutatemi a renderlo più facile da trovare, recensandolo su iTunes e condividendolo con amici e conoscenti. Questo è l'unico modo per aumentare la sua visibilità e permettere a sempre più persone di usufruire di questa risorsa. Se volete rimanere costantemente aggiornati su nuovi episodi, su miei blog post o sulle mie pubblicazioni, potete abbonarvi alla mia mailing list su www.credinelatuastoria.com slash iscriviti. Lo ripeto è credinelatuastoria.com slash iscriviti. Bene, vi lascio con un saluto e dandovi appuntamento al prossimo episodio. Fino a quel momento ricordate, la vostra vita è una storia. Cominciate a raccontarla.